E' fuori, fuori. Sono fuori. Oh! E' sceso. Spacca qui. Ah, di violenza proprio. Chi è? Ero io. Molto tempo fa. Morti. Quelli là. Quanti sono? Saranno insieme. Ah, ma c'è un terzo. Che mi è scappato? Dove è scappato? Ah, è scappato sotto. Guardalo la merda, due. Sei tu che corri, no? Ah, c'è qualcuno anche là a destra. E quanti cazzo sono? Quelli al camper stanno salendo. Quello è fermo. Mi stanno sparando anche da destra. Porco. Scusa. Modifico. Tu modifico io? Vabbè, se bevi, te conviene star così. Perché? Perché non hai totale vita? Perché ho così via di verone. Ah. Ma ci hanno busciato. Ma pensate. Che bravi coglioni. Esplode. Ah, perché hai tolto il dietro. Occhio anche da destra. Fatto quello sinistra. Ok. Occhio che quelli sopra a sinistra non erano lì da... Cioè, non erano andati via da molto, ne so. Sempre che non siano ancora lì. E infatti... Mi spiace, quel jump hat non lo usate. Se proprio volete venire giù, dovete... Venire giù normali. Preso 30, quello lì. Ancora 30. Ok. Ce n'è un altro là. Che era già sotto però. Preso. Va bene. Morti. Tu ti sei fatto male? Ho i beveroncini, eh? Ho sparato. Ah no, è il gioccellone. È vero. Sono sopra... Alla casa. Dimmi quando ci sei. Dì se ci sono, insomma. Allora, in realtà sono al centro. L'ha mancato. Da dietro. Madonna, che portello. Missili. Mi ha iniziato a piazzare trappola. Tanto per gradire. Ma mi sa che c'era un'altra costruzione ancora. Eh sì. C'era la costruzione qui sotto. C'è qualcuno? Non ne ho più paura di idea. Scopriamolo. A parte una marea di trappole. E un tipo, sì. Mi avevi detto. Due tipi. Salve. Ma vi state rendendo conto che vi sparo da sopra o... No, soltanto no. Arriba su! Su di qua! Casa, eh? Mmh. Oh, cazzo. Uno l'ha preso. Ciao, belli. La mia schiena! Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!